Pronta? 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 Pronta, signora Titina? Sì, che è lei? Sono io, la signora del secondo piano. Che cosa vuole, signora? Buonasera. Buonasera. Buongiorno. Senta, mi è caduta una calza come l'altra volta. Me la puoi prendere? Senta, lei con sta calza ci sta bruciando i calza, non puoi essere? Che fai calza, signora? E' un mondo di girare. Quale girare? Sono in vestaglia, non posso abbracciare. Non so di questo parlare, signora. Senta, lei la calza... Una cosa ci ho chiesto. Cioè, ancora io ci metto in giù, acqua setta. No, ma la calza questa volta è pulita, signora. Senta. Perché mi è volata, nemmeno se che la stendevo. Senta, pulita no, ci fanno caccare i palumi, io farò invece. Lei è baitata, signora. E lei è educata. Domenica fu tutta gentile, quando me l'ha presa. Stai sicura con queste cosette lei? Mi dispiace. Buuuh, ora parlo col capo condominio. E ma su ora... Dire, ah, con le messe murencia, dire che acqua che le messe murencia. Che acqua si è trusa. Che acqua si è trusa. Che acqua si è trusa. Che cosa voleva dire? Ma parla, parla. E tu ti senti? Parla, che parla. Senti qua, vieni qua qua sopra, lo sai? Che? Di l'acqua? Ma vabbè, no, ma io veramente... Un minuto, che ora... Scusate signora, che la scuola ci ha molto chiuso, che chiuso c'è il palumaro. Aspetta, che ci va a caccare il palumaro. Che chissà, ci faccio l'avare? Un vizio. Il carico, se non mi fai pure. Oh, hai capito il palumaro. Era un minuto solo. Che aiutiamo per combattere con 6 cimoni, con 5... Secondo me me lo fa posta. Secondo me me lo fa posta è questo.